Allora, adesso andiamo a mangiare tutte tutte, aspettate una per volta. Allora, questa è Melissa, questa è Geltrudino, Geltrude, questa è la Lola, Fagiolino, questa è la Brigitte Brardot, la Bibi, in omaggio alla nostra cara amica di Melissa. Lola, vuoi la poppa che dè Lola? Questa è la più cicciona di tutte, la Lola, eh Lola? E' disperata la Lola se non mangia la poppa. Mi va bella, Rossella, tieni Rossella, la Rossella è la più ribella. Ma poi alla fine coccolona tanto tanto anche la Rossella. Lola, non mi pensi che brontolare con le altre. E poi niente, da quando l'ho salvata tutte le mattine faccio la pappa, a volte c'ho il pastone da fare. Però in questo momento me lo devono ancora portare, immagino, quindi mi sveglio un po' prima e preparo i maccheroni per tutte. Grazie mille